ecco una delle cose che voglio approfondire è il concetto di analisi di scenario di cui in una recente pillola ho parlato cosa vuol dire analisi di scenario in strategia anche qui la gente si improvvisa esperto di strategia ma ci vogliono 25 anni per maturare l'esperienza che ho accumulato io in tanti ambiti dall'università alle banche al mondo politico alle aziende i confidi eccetera ebbene in tutti questi mondi l'analisi di scenario è una cosa ben precisa bisogna prendere i tre fattori di rischio che ho spiegato nella precedente pillola cioè i rischi esterni o esogeni i rischi preventivabili o interni e i rischi strategici che sono quelli che mettiamo nel piano strategico per l'appunto e bisogna pesarli secondo due variabili una è la variabile di probabilità che si chiama occurrence quindi la probabilità che un evento positivo negativo si verifichi e l'altra è invece l'indicatore di impatto che quindi vuol dire quello che è l'effetto che nel caso si verifichi l'evento avrò sulla mia azienda dopodiché bisogna prendere l'elenco di tutti gli eventi che possono verificarsi per la vostra azienda positivi e o negativi perché dico e o perché potrebbero avere entrambe le valenze facciamo un esempio un cambiamento normativo è una variabile tipicamente esogena a meno che voi siate parlamentari ma ve lo dico da ex parlamentare anche se siete parlamentari è molto improbabile che dipenda da voi cioè le forze in gioco sono veramente molto grandi quindi è molto difficile prevedere se andrà una norma in una direzione o nell'altra se ne può avere un'idea ragionevole ma non c'è mai la certezza ebbene lo stesso evento può essere positivo o negativo e allora a questo punto noi dovremmo fare un elenco degli eventi positivi e un elenco degli eventi negativi articolati su questi tre piani i fattori esogeni i fattori interni o preventivabili e i fattori invece strategici o a libera scelta che quindi non dipendono dall'invecchiamento per esempio della classe operaia che lavora con noi ma dal fatto che magari noi vogliamo aprire un nuovo mercato un nuovo stabilimento o lanciare un prodotto nuovo ecco dopo che abbiamo identificato queste tre matrici di rischio li andremo a collocare in altrettante tabelle e queste tabelle saranno matrici di tipo probabilità ed impatto dopo di che faremo delle riflessioni ma queste riflessioni ve le farò nella prossima puntata vedete io preferisco darvi poche informazioni video brevi concetti chiari almeno spero ma così mi dicono la maggior parte delle persone e soprattutto vi voglio dire che queste cose si fanno tutti i giorni vedete i miei detrattori sempre dicono ma quello è un professore un teorico un filosofo sì sì io li lascio parlare intanto io ho tre mesi di appuntamenti di imprenditori ogni giorno uno diverso sto parlando con imprenditori di tutti i settori e tutti considerano questi esercizi cioè gli analisi di scenario delle cose fantastiche vanno alla lavagna lavorano con me ragionano con me scrivono discutono si appassionano e definiscono veramente il futuro della propria azienda lasciate perdere le industrie 5.0 le aspettative le leggi egevolate mettetevi a fare quello che veramente conta la strategia della vostra azienda vi aspetto